Ci sono poi anche il tentativo di coinvolgere ad esempio chi organizza grande eventi a Torino, diciamo che si impegna ad aiutare a coprire qualcuno di questi servizi. Abbiamo appena scoperto, perché adesso questi giorni c'è questa diatriba del concerto dei Muse allo Stadio Olimpico, per cui l'amministrazione comunale ha dato l'autorizzazione a fare il concerto, ma si è dimenticata che gli doveva autorizzare a accendere il volume a un livello che non fosse quello della musica nel salotto. L'hanno scoperto l'ultimo giorno, quindi c'è stata una settimana di confusione politica, in cui alla fine siamo arrivati stamattina in Consiglio Comunale a votare questa delibera che gli permette di alzare volume a livello normale dei concerti, che è elevato, però comunque a un livello che il concerto se lo fai, se fai un concerto in uno stadio deve avere un certo volume. E proprio in questa discussione è venuto fuori che già inizio del 2010 il Consiglio Comunale aveva votato una mozione che diceva che a tutti quelli che organizzano eventi a Torino, dall'ostensione delle sindone che era all'epoca, fino ai concerti eccetera, bisogna chiedere dei soldi in più per compensazioni, quindi poi per ripiantare altri alberi, per compensare il traffico delle auto, l'inquinamento eccetera, piuttosto che appunto per attività contro il rumore, contro il caos. Peccato che poi non l'abbiano mai fatto, l'hanno fatto per l'ostensione della sindone in cui hanno chiesto alla Curia, credo, hanno messo un euro a persona alla fine, quindi anche cifre significative. Sui biglietti dei concerti due euro dovrebbero essere. Però in realtà a quanto pare il Comune si è dimenticato di far applicare questa cosa, quindi non è mai stata applicata fino adesso, stamattina in Consiglio Comunale abbiamo tutti detto ma com'è che il Comune si è dimenticato di applicarla? E adesso si capirà se si riesce a recuperare qualche soldo da quello che comunque il Comune incassa, perché quelle cifre lì sono l'affitto dello stadio, alla fine il Comune per dare lo stadio per questi eventi prende delle cifre che sono anche legate al numero di biglietti, quindi sono anche una quota per biglietto che poi scende se i biglietti sono tanti, però la compensazione esplicita per i problemi ambientali non è stata realizzata. E quella sicuramente sarebbe utile anche perché chi abita davanti allo stadio, sicuramente ha grossi problemi, perché chi abita davanti allo stadio, già con il calcio tutte le domeniche, eccetera, ha problemi forse più che di rumore proprio di gestione, di mobilità, di macchine abbandonate ovunque, di traffico, e quindi che magari il Comune abbia dei soldi da investire per migliorare un po' la vita e gestire un po' questi problemi mi sembra giusto. Anche se poi devo dire una cosa che non ho molto capito, di questa diatriba è che si è fatto tanto rumore perché si volevano fare sette serate di concerto allo stadio olimpico invece che cinque e dare la deroga sembrava una roba complicatissima e poi lo stesso Comune autorizza disco pub, locali notturni, punti verdi o un genere di roba in mezza città ad andare avanti fino alle quattro del mattino per tre mesi tutte le sere, cioè dal lunedì alla domenica, da maggio a settembre, con gente poveretta che non riesce più a dormire nessuna notte per quattro mesi di fila. Per cui voglio dire, anche questo è un po' ridicolo, che il problema fosse fare due concerti in più allo stadio olimpico in un anno e poi però quelle cose lì vengono sempre autorizzate e tra l'altro cose che, a differenza dei concerti che hanno una ricaduta perché la gente viene da fuori, sta qua, va negli alberghi, mangia, il disco pub alla Pellerina piuttosto che al Valentino non è una ricaduta culturale, turistica in particolare, cioè non è una roba di cui comunque la città beneficia. Per cui non si capisce perché questa disparità di trattamento, infatti una delle cose che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo preteso stamattina in questa delibera che ci fosse scritto, che adesso andiamo a rivedere anche le regole per il disco pub, tutte le altre attività senza voler chiudere la città perché è giusto che la città di notte è viva e che chi vuole divertirsi possa divertirsi, ma è anche giusto che chi vuole dormire possa dormire in casa propria e quindi di trovare una cosa che vada bene.